Mister Campanile, dopo la sconfitta contro l'Aquila, il suo Fontanella adesso è chiamato al riscatto ed è chiamato al riscatto nel derby contro il Treciminiere. Che gara sarà secondo lei? Sicuramente sarà una gara importante per noi se vogliamo continuare a sperare di poter lottare per qualcosa di importante a livello di classifica. Sicuramente affrontiamo una partita difficile perché Latria viene da un po' reggio contro il San Gregorio quindi sicuramente vuol dire che sta in buona salute perché io l'ho affrontato, San Gregorio è un'ottima squadra e ha dei valori importanti quindi se è riuscito a bloccarlo vuol dire che stanno in una situazione in forma importante però noi dobbiamo dipendere solo da noi, bisogna riscattare la sconfitta dell'Aquila che ci può stare perché sicuramente ha dei valori diversi rispetto a tante squadre di questo campionato e sta a noi a metterci del nostro per continuare un percorso che avevamo iniziato che è stato importante fino ad oggi. Esatto, mi stai dicendo che la corsa di playoff passa anche da questa partita e poi c'è anche da dire che il derby è una storia a sé quindi questa può essere la difficoltà del caso. Beh sicuramente il derby come dici tu è una partita a sé aperta ogni risultato perché le motivazioni lo fanno da padrona e come dicevi tu sono queste le partite che per noi sono importanti rispetto alla partita di domenica scorsa con l'Aquila se riusciamo ora in queste ultime due partite di campionato a inanellare due vittorie allora sono sicuro in giro di ritorno potremmo dire la nostra insomma.